Buongiorno ragazzi, venerdì ultima puntata della settimana e c'è lo studio di D'Artagnan sui principali campionati di calcio con le giocate per oggi a coprire tutto il fine settimana, questo weekend D'Artagnan ha scelto 6 free pick tra Serie A Premier League e Ligue 1 francese andiamo spediti perché però devo parlare anche di altre cose, risultati, sport americani, facciamo un aggiornamento di golf ve ne avevo promesso uno anche di motori e poi come detto le free pick, quindi partiamo spediti, non ci sentiamo da mercoledì che cosa è successo negli ultimi due giorni? È successo che siamo stati perfetti questa settimana di coppe 3 su 3 di D'Artagnan tra Champions ed Europa League la combo del Real l'avevamo già vista nell'ultima puntata, abbiamo preso anche il PSG e Manchester City l'over 2,5 e ieri la doppia d'Europa League a 2,08, l'over tra Villareale e Arsenal, l'overino e la vittoria dello United purtroppo, dico purtroppo perché noi speravamo comunque in un 2-1, in un 1-0, una vittoria di misura dello United e invece 6-2 è pesante, poche speranze anche per il ritorno all'Olimpico, credo comunque che Solskjaer se la ricorderà la Roma e cosa abbiamo sbagliato in questi giorni? Unico errore è l'Eurolega di basket, Milano ha perso gara 3 a Monaco dove gioca anche oggi ed è sfavorita intorno a 2 di quota, si gioca anche gara 2 di Euro Cup con Kazan che invece è favorito a 1,30 per il riscatto dopo aver perso la prima contro Monaco vediamo anche cos'è successo negli ultimi due giorni di Sportusa, mercoledì siamo andati davvero bene nel VIP di Betting Maniac 5-1 in NBA, 2-2 in MLB, 1-1 in NHL vi faccio vedere anche un'altra cosa perché mi sono messo a dare queste multipline, micro stake, proprio quasi for fun sono multiple che gioco mettendo insieme le giocate interessanti che però alla fine scarto dalle mie analisi io analizzo sempre quasi tutte le partite del paninsesto quotidiano degli Sportusa tiro giù le mie idee e poi alcune rimangono fuori perché non mi convincono del tutto per giocarci forte quindi mi sono messo, visto che alcuni me le hanno anche richiesti, tutti gli studi, mi sono messo a fare questa cosa finora così for fun ma ci siamo andati molto vicini, primi da MLB, quota 14 dove abbiamo sbagliato solo la partita sulla carta più semplice un classico ovvero Toronto e però siamo andati vicini anche con la quota 4-23 in NBA che non è andata per Hayton che avevo dato in doppia doppia, va in doppia cifra ma con i rimbalzi, non con i punti se non sbaglio, se non ricordo male, si è fermata a 5 questa notte un pochino più di rosso è una gran presa per i fondelli 2-2 in NBA, 2 probetto dato, 2 giocatori rotti e rotti agli inizi perché può capitare che fai delle giocate sulle prestazioni poi c'è del garbage time soprattutto quest'anno e quindi il minutaggio è più basso qualcuno si infortunia nel terzo, quarto, nell'ultimo quarto ma due seccate del genere Giannis 1 punto in 46 secondi e io gli avevo giocato l'over 38,5 punti più rimbalzi per fortuna quota bassa perché avevo paura del garbage e poi vediamo che qua il garbage non c'è stato Brogdon 0 su 3 da 3 in un quarto e ripeto in 13 anni che seguo le scommesse è la prima volta che mi capita un lavoro del genere un 2 su 2 del genere va alla pick statistica sul primo tempo dei Bucks che era anche la free pick e va nonostante tutto e nonostante il fatto che perso Giannino i Bucks hanno addirittura perso contro i Rockets è assurdo 50 punti di Porter tra l'altro se lo avessi scommesso sarebbe rotto la schiena invece di fare 50 punti stanotte e comunque vi faccio vedere anche una roba perché questa robina qui dei Bucks ci fa saltare anche questa doppia questa multipla avevo dato gli over a Detroit e Minnesota che col senno di poi potevo anche prendere in singola i punti di KD ne ha fatti 42 mancava Irving tutti stavano giocando su KD non sono stato a darvelo anch'io cerchiamo di dare giocata anche un po' fuori dal banale diciamo nonostante tutto comunque KD 42 punti sapeva che poteva fare tanto una volta arrivata la conferma dell'assenza di Irving oltre a Arden vabbè siamo andati così leggero positivo in MLB comunque abbiamo preso le belle quote i White Sox in run line la doppia che per alcuni era ancora aperta dal giorno prima avevamo giocato la vittoria dei Dodgers contro i Reds e ancora i White Sox vincenti Texas nei primi 5 inning a 2.26 quindi una discreta giornata qui però siamo ancora in attesa stiamo giocando bassissimi siamo ancora in attesa dell'inizio del metodo F5 che faremo con Morfeo Morfeo che questa notte ha fatto le ore piccole per seguire il draft NFL aveva fatto anche il suo MOOC draft oggi ci farà un bel messaggio vocale con il suo repilogo e l'analisi ha fatto una diretta su Facebook se non l'avete sentita se non l'avete seguita vediamo cosa ci riassumerà nel vocal che uscirà oggi pomeriggio lo riporteremo anche nel canale free di Betting Maniac quindi iscrivetevi su Telegram seguiteci, attivate le notifiche e i link sono come sempre qui sotto tra l'altro tornando un secondo alle multiple di ieri abbiamo sfiorato anche in NHL la quota 4 che è saltata per i Wild che hanno perso in casa in overtime e in NBA come detto è saltata quella 5.45 per colpa dei Bucks aggiornamento di golf perché se il buongiorno si vede dal mattino grande inizio gran primo round di Grillo Emiliano Griglio che avevo consigliato ce l'avevano regalato a due eventi di quota leader del gruppo dopo il primo giro leader su Han e Hu che insieme sommano 4H nei propri cognomi e un più 10 totale uno ha chiuso a più 4 l'altro ha chiuso a più 6 Grillo invece è secondo in classifica ha chiuso a meno 5 cioè non solo li ha battuti li ha proprio stracciati io qua ringrazio davvero chi ha fatto questo gruppo chi ha fatto queste quote nel caso specifico Bet365 per la vittoria però adesso speriamo che si tranquillizzi un attimo perché noi abbiamo dato altre idee Conners sta deludendo ve l'avevo dato qui in free pick siamo messi bene con Sun Gya e Him e con Abram Hanser che avevo dato sempre nel VIP entrambi a 31 di quota entrambi sono lì e speriamo è lunghissima comunque però come detto iniziare con una bella quotina a 2.20 è sempre una bella cosa vi avevo promesso anche un aggiornamento dai motori dalle free pick di Panda al momento ne è uscita solo una una di Formula 1 e tra l'altro in questo momento le quote sono fuori sono off ve la riporto comunque poi vedrete voi in serata dopo le libere quando tornano a uscire le quote vedete un po' come aggiustarvi è una doppia sui piazzamenti Sunoda in top 10 con la sua Alfa Tauri è la sorpresa di questo inizio stagionale e poi aggiungiamo Russell in top 15 stake comunque minimo stake 1 Russell con la Williams è un gran pilota una gran macchina di merda però ha fatto il settimo tempo è andato forte nelle libere di questa mattina quindi attenzione in serata uscirà qualcosa anche sulla MotoGP sentivo già i primi messaggi che mi sta mandando il Panda aggiorneremo anche l'articolo in home per il resto anche qui tutte le analisi e le giocate di Panda ma anche di Morfeo che ha iniziato alla grande questa stagione di Formula 1 le trovate nel VIP di Betting Maniac passiamo alle free pick lo studio di D'Artagnan iniziamo da oggi unica giocata del venerdì in Ligan tra gli anticipi si gioca in Spagna in Inghilterra e appunto in Francia abbiamo scelto proprio Marsiglia-Strasburgo over 2,5 a 1,95 Stake 1 5 over nelle ultime 6 partite del Marsiglia che in questo arco di tempo ha totalizzato una media di 4 gol a partita entrambe le squadre sono sempre andate a segno nelle ultime 5 partite dello Strasburgo e in 4 occasioni si è registrato un over 2,5 quindi due squadre che hanno un gioco d'attacco speriamo di vedere almeno 3 reti se non sbaglio però l'andata ne vediamo solo una non vorrei dire una stupidata ma speriamo di vederne di più passiamo a domani Premier League sempre D'Artagnan ci da Chelsea-Fulham Fulham gol no a 1,83 Stake 1 è vero che i Blues devono pensare al delicato impegno di Champions però a Stamford Bridge non sarà facile segnare per il Fulham che ha uno dei peggiori attacchi della Premier mentre i Blues hanno una delle migliori difese del campionato inglese soprattutto da quando c'è Tuschali in panchina il Chelsea cercherà di tenere i ritmi bassi e di difendersi per fare il massimo bottino col minimo sforzo magari un po' come fu all'andata in questo caso fu davvero 1-0 per i Blues a Craven Cottage passiamo alla serie A un azzardo una pick in singola e la multiple al solito menù di D'Artagnan per il campionato di calcio italiano e questa volta di solito gli azzardi sono delle X sono delle quote intorno a 2,5 3 qualche marcatore a 4 no stavolta andiamo forte autogol sì a 11 di quota Stake 0,1 quindi davvero il caffè Verona-Spezia autogol sì nessuna squadra ha beneficiato di più autoreti del Verona in questa serie A 4 autogol a favore mentre lo Spezia non ha ancora avuto un autogol a favore in questo campionato vediamo se si interromperà questo trend e se lo Spezia riuscirà finalmente a beneficiare almeno di un autorete in questa stagione magari proprio nello scontro col Verona che invece porta parecchio sulle statistiche da questo punto di vista inizia domani anche la multipla di serie A che ci accompagna per tutto il weekend 2,98 di quota Stake 0,5 Milan-Benevento Milan segna per primo Lazio-Genoa over 2,5 e Napoli-Cagliari Napoli over 1,5 allora Milan-Benevento da una parte il Milan è la squadra che ha realizzato più reti nella prima mezz'ora di partita in questa serie A 22 reti nei primi 30 minuti così come la Roma dall'altra parte il Benevento ha la peggior difesa nello stesso arco temporale 25 reti al passivo nei primi 30 minuti per la squadra di Inzaghi che tra l'altro è in calo si gioca la salvezza a San Siro contro il suo Milan un Milan che a sua volta si deve dare una svegliata perché da possibile contender dello scudetto sta scivolando fuori dalla Champions pian piano poi Lazio-Genoa over 2,5 nelle ultime 9 sfide tra queste due squadre in serie A sono stati totalizzati 35 gol ovvero 3,9 a partita di media pensate che nel parziale solo una volta una delle due formazioni non ha trovato la rete quindi il gol-gole è un'altra giocata gettonata e fu nel 2019 a settembre quando il Genoa perse 4-0 in ogni caso fu comunque over quindi over 2,5 in mezzo all'Olimpico nella sfida tra Lazio e Genoa infine Napoli over 1,5 gol almeno 2 gol dei partenopei sono 20 le reti con tiri da fuori area del Napoli in questo campionato solo la Juve nella stagione 2014-2015 ha fatto meglio in una singola stagione il Cagliari dall'altra parte ha subito ben 11 gol da fuori area guarda caso il 20% delle reti incassate dai Sardi sono arrivate dalla distanza è la percentuale peggiore in corso in questo campionato tra l'altro il Napoli sta viaggiando con una media di 16,82 tiri a partita in questa serie A ed è la più alta non solo in serie A ma in tutti e 5 i campionati europei in questa stagione vi dico anche che all'andata è finita 4-1 quindi speriamo allo stadio Armando Maradona di vedere almeno due gol del Napoli contro il Cagliari Cagliari che ultimamente ha giocato bene ma ha anche concesso qualcosa dietro passiamo a domenica la singola di serie A Bologna Fiorentina Fiorentina rimborso in caso di pareggio a 1,72 Stake 1 l'ultimo successo del Bologna contro la Fiorentina in serie A risale al febbraio del 2013 da allora i Rosso-Blu hanno segnato 4 reti in 13 sfide contro la Viola con 5 pareggi e ben 8 sconfitte dalla stagione 2011-2012 a oggi la Fiorentina ha registrato 11 clean sheet contro il Bologna più che contro qualsiasi altra squadra in questo periodo quindi nel derby dell'Appennino andiamo con il rimborso in caso di pareggio per la Viola tra l'altro mi risulta che Mijajlovic nel Bologna abbia diversi infortunati quindi occasione e possibilità di fare altri punti salvezza per la Fiorentina chiudiamo tornando oltre Manica in Premier League nel Big Match Manchester United Liverpool anche qui Liverpool rimborso in caso di pareggio a 1.85 in queste Icuno D'Artagnan nel Big Match prova a dare fiducia al Liverpool che ha bisogno di fare i tre punti dopo gli ultimi due pareggi che hanno ulteriormente frenato la corsa dei Reds in una stagione difficile Klopp però avrà preparato al meglio questa sfida contro l'United che ha giocato in settimane in Europa League ha stravinto con la Roma lo abbiamo detto e lo sapete sicuramente però comunque ha giocato e dovrà scendere in campo di nuovo all'Olimpico giovedì prossimo per chiudere la pratica verso la finale di Europa League mentre il campionato ormai diciamolo è già in mano ai cugini del City se non sbaglio se lo United perde e il City vince è già matematicamente in mano alla squadra di Guardiola prendiamo quindi Liverpool però assolutamente con l'imborso in caso di pareggio D'Artagnan sconsiglia il 2 fisso perché è troppo rischioso l'infermeria dei Reds rimane bella affollata e come detto la stagione è difficile e si gioca sempre a Manchester e l'X2 invece la doppia chance è una quota troppo bassa quindi andiamo con la via di mezzo di rimborso in caso di pareggio per i Reds siamo arrivati alla fine ragazzi noi ci sentiamo su Youtube lunedì nel weekend uscirà una super promo del primo maggio per entrare nel canale VBBettyManiac non perdetela contattateci per scoprire tutto si entra gratis fino a fine anno quindi seguiteci contattateci io ora stacco perché oggi ieri c'era questa notte c'era Morfeo in diretta su Facebook per seguire il draft NFL tra poco su Instagram c'è la diretta del Presidente non mi ricordo con chi fa una diretta in collaborazione con un altro tipster parleranno di calcio tutto il fine settimana si potranno fare anche domande insomma seguitela inizia alle 16.30 oppure recuperatela non potrete interagire però almeno ve la recuperate sono sicuro che il Presidente e il suo compare che veramente non mi ricordo chi è faccio una figuraccia però scusatemi sono sicuro che ci daranno tante belle chicuzze per il weekend di calcio va bene ragazzi io sono arrivato alla fine sto perdendo la voce vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata fate buone scommesse puntate sempre con la testa ciao